Musica Sabato l'annuncio ufficiale in cattedrale del nuovo Vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, 59 anni, Vescovo di Rieti che arriverà in settembre come successore di Monsignor Giuseppe Zenti. Il dibattito sullo Ius Scole è per dare la cittadinanza ai figli di stranieri dopo un ciclo scolastico di 5 anni a esprimere il suo punto di vista sulla proposta di leggi in discussione il giornalista Don Bruno Fasani. È molto vivace il panorama delle compagnie teatrali veronesi che durante l'estate offrono la possibilità di seguire commedie e spettacoli nei cortili della città. Buonasera a tutti voi gentili amici e benvenuti a questo nostro quotidiano appuntamento dedicato all'informazione che abbiamo anticipato nei titoli di apertura e parliamo dell'annuncio del nuovo Vescovo della Diocesi Veronese. Sabato la comunicazione ufficiale in cattedrale, Monsignor Domenico Pompili, 59 anni, Vescovo di Rieti, arriverà in settembre, quale successore di Monsignor Giuseppe Zenti. Oggi, ma vorrei dire da qualche giorno perché questa notizia poi è divampata, mi ritrovo dentro a una tempesta emotiva perché ho ricevuto da parte di tanti di voi come una corrente di energia, di affetto, di stima, di riconoscenza che mi ha letteralmente travolto. Un'emozione grande, con momenti di intensa commozione. Così Domenico Pompili ha accolto la nomina Vescovo di Verona resa nota ufficialmente sabato scorso. Una città lontana dalla sua terra e dalla Diocesi di Rieti, dove in questi giorni gli arrivano testimonianze di grande vicinanza. Romano, 59 anni, con l'esperienza di vari incarichi nella conferenza episcopale italiana e nelle comunicazioni sociali, Monsignor Pompili, nell'intervista al fondatore di Telepace, Monsignor Guido Todeschini, ricorda l'importanza di questi mezzi anche per la missione pastorale che lo attende a Verona. Vuole mandare un messaggio fresco, fresco, alla Diocesi? In realtà il messaggio l'ho appena mandato e credo che lì, in quel messaggio che penso Monsignor Zenti abbia letto in queste ore a Verona, c'è un po' il senso della mia sorpresa, per un verso, e della mia attesa di incontrare questa Chiesa, con la quale voglio insieme continuare la ricerca della fede che a me pare essere oggi la necessità più urgente per un tempo come è il nostro, in cui l'uomo sembra sempre più stanco e con la testa pesante ha bisogno di una prospettiva più ampia che soltanto questa ricerca consente di ritrovare. È una Diocesi articolata, quella che aspetta con gioia il nuovo Vescovo che sostituirà Monsignor Giuseppe Zenti che ha raggiunto i limiti di età. Monsignor Pompili arriverà non prima di settembre, ma già a luglio potrebbe venire a Verona per conoscere meglio la realtà diocesana di cui riceverà il testimone. Parliamo adesso del dibattito sullo Ius Scola e per dare la cittadinanza ai figli di stranieri dopo un ciclo scolastico di cinque anni. Sentiamo il punto di vista su questa proposta di legge attualmente in discussione da parte di Don Bruno Fasani. Un argomento che rischia di creare delle gravi tensioni anche all'interno del governo. Cosa si intende per Ius Scola? Intanto si tratta di un provvedimento che dovrebbe risolvere un problema spinoso. I figli di immigrati debbono, possono diventare cittadini italiani. Bene, lo Ius Scola sarebbe un provvedimento che risponderebbe a questa domanda. La proposta di legge che viene portata avanti in questo momento prevede che al termine di un curriculum di otto anni di scuola, quindi elementari e medie, portate avanti dal figlio dello straniero, si debba riconoscere a questi ragazzi la cittadinanza italiana. Vi dirò da subito che io non sono contrario al principio dello Ius Scola. Anzi, lo ritengo più importante dello Ius Soli, che è quello di dire che tu diventi cittadino italiano perché abiti su quel suolo dopo tot anni. Perché sono più favorevole all'Ius Scola che non all'Ius Soli? Perché lo Ius Scola, il diritto che ti viene dall'istruzione, mi dice che tu hai partecipato ad una educazione di tipo scolastico, ad una integrazione pedagogica con gli altri ragazzi italiani per almeno otto anni. C'è un solo punto sul quale io però mi permetterei di dissentire. Io vorrei che lo Ius Scola venisse dato al termine del diploma quando lo studente ha raggiunto i 18 anni. E perché questo? Intanto perché ci sarebbe una formazione che ha accompagnato quel ragazzo a una maggiore maturità di istruzione. Ma soprattutto perché io vorrei che il diritto venisse dato a chi ha raggiunto i 18 anni. Perché oggi la complicazione avverrebbe invece quando noi facciamo un cittadino italiano a 13-14 anni con dei genitori che sono degli stranieri e che non hanno diritto. Come comporremmo queste divergenze, queste difficoltà? Attendere a 18 anni quando un cittadino diventa padrone, arbitro di se stesso anche da un punto di vista giuridico credo che sarebbe la soluzione ottimale. In questi giorni viene recitata all'altare della Madonna del Popolo una preghiera per implorare da Dio il dono della pioggia contro la siccità che da settimane colpisce l'Italia. In questa circostanza da alcuni giorni è stata eccezionalmente esposta una reliquia particolare che da tempo non veniva mostrata ai fedeli. È la Sacra Spina. Una reliquia con la quale, secondo la tradizione, furono martirizzati Santi Fermo e Rustico. In passato veniva portata in processione per chiedere in preghiera che venisse la pioggia per salvare i raccolti agricoli. Il parro, come signor Luigi Cottarelli, ha voluto ripristinare questa antica tradizione. Il sindaco di Virona ha firmato nei giorni scorsi l'ordinanza che limita l'uso dell'acqua potabile ai fini domestici per la pulizia personale e per l'igiene. L'invito è quello di adottare comportamenti e abitudini per ridurre gli sprechi. Fino al 31 di agosto sarà quindi vietato usare acqua potabile proveniente da fonte idrica per l'irrigazione di orti, giardini, campi sportivi, lavaggio di automobile, salvo gli impianti autorizzati per il riempimento di piscine e ogni altra attività che non sia strettamente necessaria ai fini del fabbisogno umano. L'eventuale utilizzo per scopi sopradescritti e vietati, seppur sconsigliato, potrà avvenire soltanto dalle 21 alle 6. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 500 euro. È molto vivace il panorama delle compagnie teatrali veronesi che durante l'estate offrono la possibilità di seguire commedie e spettacoli nei cortili della città. Sul palco d'estate a Verona vanno in scena numerose compagnie amatoriali con tanti spettacoli per tutti i gusti, proponendo i classici o esplorando le opere di autori contemporanei. Attori e attrici non professionisti entrano in scena e si trasformano vestendo personaggi di ogni epoca e situazione con grande professionalità. Penso che ufficialmente siano più di 40 anni che il teatro amatoriale è strutturato anche in queste rassegne organizzate dal comune. Certo dobbiamo andare molto ma molto più indietro perché il teatro amatoriale, da quel che ne so io, già nel tutto novecento esisteva a Verona. Magari il teatro parrocchiale, il teatro del dopolavoro, però lì si sono formati i nostri padri e madri storiche. Durante il covid le compagnie sono riuscite a mantenere alcuni spettacoli durante l'estate. Il GAD Renato Simoni è la più vecchia compagnia in città. Dal 9 al 16 luglio nel chiostro di Santa Maria in Organo presenta la commedia 50 e non li dimostra. Siamo nel 51esimo, il 16 di marzo abbiamo festeggiato proprio il cinquantesimo della nostra fondazione. Ecco, purtroppo del gruppo originale sono rimasto solamente io, altri sono vivi, altri non ci sono più. E comunque la compagnia si è sempre rinnovata, sempre cercando di mantenere un suo standard di qualità e direi che ci stiamo riuscendo in pieno. Cosa porterete in scena quest'anno? 50 e non li dimostra, perché ne dimostriamo magari io molti di più, altri molti ma molti di meno. È un titolo così che vuole essere anche una promessa per il futuro, cioè il desiderio di continuare. È un po' una stravagante storia, un po' buffa, un po' allegra, un po' divertente, è un po' che fa riflettere proprio sulla nostra compagnia. Si è tenuto ieri sul Monte Baldo il pellegrinaggio alla chiesetta alpina di Costalbella dopo la distruzione della tempesta vaia nel 2018. Gli alpini l'hanno ricostruita a contribuire alla raccolta fondi anche gli amici e i familiari di Alice Copelli, giovane che tre anni fa perse la vita a 18 anni. Il pellegrinaggio annuale che è giunto alla sua 59esima edizione ha richiamato centinaia di alpini fino alla quota di 1900 metri sopra il lago di Garda, la chiesetta nel cui saccello riposano i resti del giovane soldato Raffaele Solve, morto in Russia nel 1943 all'età di 21 anni. Il capellano sezionale Don Rino Massella ha quindi celebrato la messa animata dal coro dell'Ana, amici della Baita. E' tutto per quanto riguarda questo nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito e buona serata.